Risposta a tutte le domande, ha ricostruito tutto quello che è accaduto dal 26 di febbraio al 6 di marzo, più al 7 di marzo, è stato esauriente, come è già ascoltato con molta attenzione, ci fighiamo lì, ci siamo felici, la confide che finisce tutto presto e bene. E sul 2 marzo, perché è il giorno che è rimasto scoperto la volta scorsa, perché nessuno non era agli atti, quella bossa di... era un punto informale, quello che accoglie il giorno pomeriggio. La nota riservata. Quando è stato seguito il 12 di giugno, non ero ancora nella procura, adesso l'ha letto, l'ha commentato, l'ha spiegato e assolutamente spiegano la sua posizione per il giorno.